Oggi una operazione per vedere innanzitutto questo ponte che collega la città con Rinazzi, quindi attraversa, sovrappassa la 123, per capire innanzitutto qual è la condizione e poi anche per stabilire un punto di partenza di chi è la competenza, di chi è questo ponte. Noi abbiamo chiesto all'ufficio tecnico comunale di stabilire la sicurezza di questo cavalcavia che percorre la statale 123. Già sono state effettuate delle indagini parziali, però abbiamo chiesto un ulteriore dati scientifici per capire e stabilire la portanza del cavalcavia e quindi garantire un transito sicuro ai mezzi, ricordando che questa strada collega la contrada Rinazzi con il centro città, quindi è fortemente trafficato. Oggi verranno eseguite le prove di carico per capire il comportamento statico del cavalcavia, i dati poi verranno consegnati ad un professionista che li dovrà elaborare e quindi stabilire il da farsi per la gestione del ponte. A proposito di questo, di chi è questo ponte? Di chi è la competenza su questo cavalcavia? La competenza non è chiara. Abbiamo stabilito con l'ANES, il ponte è stato costruito dall'ANES quando è stata tracciata la strada, però in effetti è un tratto comunale perché è la strada di competenza comunale. Abbiamo stabilito prima di determinare con certezza il comportamento statico del ponte e poi fare un atto di affidamento al comune della struttura, però che ricordiamo è stato costruito dall'ANES. Quindi significa che il comune si occuperà comunque della manutenzione, della parte dell'asfalto? Nella parte superiore. Mentre l'ANES? Nella parte sottostante abbiamo concordato che la manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita dall'ANES proprio per garantire la sicurezza del transito della statale. L'aspetto più importante è quello sottostante perché ci sono i ferri, si vede anche che tipo di struttura ha il cavalcavia? Di tutta la struttura. Noi vogliamo sia l'ANES che l'ANES innanzitutto, al di là delle competenze burocratiche, stabilire con certezza il comportamento e la performance della struttura. Questi massi che un po' fanno alternare le macchine resteranno oppure una volta sistemato del tutto si potranno anche rimuovere. I massi erano stati inseriti per una questione di sicurezza, per restringere la carreggiata ed evitare che i carichi insistessero sulla trave danneggiata dovuto a un contraccolpo che ha subito da un mezzo in transito. Ripeto, noi proprio dobbiamo stabilire la portata del ponte con le prove di carico e capire il da farsi. Se con una semplice manutenzione o se si dovrà restringere la carreggiata o si dovrà interdire il transito ai mezzi pesanti. Non riusciamo a stabilire l'ora proprio perché abbiamo bisogno di altri tecnici per capire lo stato dell'opera. Siamo sulla Statale 123 e qui c'è l'area artigianale. Voi avevate pensato anche a fare una sorta di bretella per entrare direttamente dalla Statale. Che punto è l'iter per questa realizzazione? Per collegare la strada Statale 123 con l'area artigianale era prevista da piano regolatore una rotatoria più a valle. Però è un'opera che è avveneristica, quindi che non è di immediata realizzazione. Allora l'amministrazione di Ventura ha dato indicazioni all'ufficio tecnico di stabilire e ovviare con un'altra soluzione. Allora si è pensato ad una rotatoria, già l'abbiamo concordato con Anas, in modo tale da permettere di realizzare uno svincolo che dalla strada Statale 123 si possa immettere o uscire viceversa dalla zona artigianale. La tempistica riguarda il progetto. Da quando siamo all'amministrazione ci siamo resi conto che abbiamo dato questa indicazione all'ufficio tecnico. Quindi dovrà l'ufficio approntare il progetto.